Simona, ho un problema. Dimmi tesoro. Lo so che la colazione è il pasto più importante della giornata, che serve quella giusta per dimagrire, ma io proprio non ce la faccio. Non ce la fai a fare cosa? Per fare una colazione sana ci vuole troppo tempo e io proprio non ce la faccio. Poi sto per arrivare in ufficio e... prima dell'ufficio c'è il bar. E il mio girovita sta lievitando come il bombolone che ho mangiato oggi. Ciao amici, sono sicura che capita a molti. Vuoi dimagrire, ti senti motivato, ti dici che farai di tutto per smetterla con le brutte abitudini, ma poi ci ricaschi sempre. E sapete perché succede? È colpa del grasso che non se ne vuole andare. Ma no, poverino, il grasso se ne andrebbe anche volentieri, guarda, te lo garantisco. Il vero problema è che non abbiamo gli strumenti giusti. Se al mattino non abbiamo un'ora per fare colazione con calma, come le influencer su Instagram in questi meravigliosi posti, non siamo noi a essere sbagliati, ma la colazione. Per dimagrire serve una colazione veloce, pratica, una colazione che hai voglia di fare tutte le mattine. Se solo il pensiero di fare una colazione sana ti fa passare la voglia di fare colazione, c'è qualcosa che non va. Ma per fortuna oggi ho la soluzione, volete saperla? Sapete cosa fare. Mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti vi piace, tanti nuovi video. La soluzione è questa, si chiama Avena Divina, un prodotto nuovo, speciale, creato dagli amici della Isvary, un'azienda specializzata in alimenti sani, sanissimi. A me sembra un banale porridge, per farlo ci vuole un sacco di tempo, lo sanno tutti. La parola divina non ti dice nulla? Questo è un porridge, sì, ma con tre superpoteri. Uno, è un porridge istantaneo, basta aggiungere latte, anche freddo, mescolare ed è pronto. Due, è crudista, non si deve cuocere. Tre, è divinamente goloso, perché lo trovate in due gusti, nocciola e cacao, e burro d'arachidi e banana. Meraviglioso. Ma com'è possibile? Ecco i benefici. L'avena è ipoglicemica, nutriente e mineralizzante. Regola il colesterolo e la glicemia nel sangue. Contiene fibre che aiutano l'intestino e danno un senso di sazietà a lungo. L'avena divina Isvari non è solo avena, contiene anche grano saraceno, semi di lino, semi di chia. E per renderla divina ci sono il cacao e le nocciole, o il burro di arachidi e la banana. Questo mix assicura una colazione completa perché ci sono tutti i nutrienti. È fantastica anche per dimagrire, perché dà energia e sazietà fino a pranzo. Così evitiamo il bar, le macchinette, gli snack nel cassetto della scrivania, i tarallini della collega. Io al mattino preparo l'avena divina in due versioni. Possiamo fare un porridge cremoso e goloso subito pronto o uno yogurt con i super poteri. Io il porridge di avena divina lo preparo così. Metto 4 cucchiai di avena divina in una ciotola e poi aggiungo circa 90 ml di latte vegetale. Riso, avena, mandorla, cocco, senza zucchero mi raccomando, non serve. Per fare uno yogurt super speciale metto 2 cucchiai di avena divina in un barattolino da 125 grammi di yogurt bianco naturale o vegetale. È facile come bere un bicchier d'acqua o come gustarsi questa delizia. Ottimo a questo punto amici per vedere tanti altri video su come dimagrire in modo naturale senza dieta, che cosa mangiare per perdere peso. Iscrivetevi al canale e cliccate mi raccomando sulla campanella qui sotto così YouTube vi avvisa appena esce un nuovo video. E per sostenere il mio lavoro di divulgazione e diventare dei super amici, super trendy e super sani, anche voi, abbonatevi al canale con un click. Condividete questo video perché non avete idea di quante persone abbiano bisogno di questi consigli semplici e veloci. Io purtroppo non le conosco tutte ma insieme possiamo fare di più. E poi condividete lo sconto perché con il codice SIMO10 potete risparmiare il 10% su tutti i prodotti Isvari. sono tanti e sono tutti speciali. E risparmiare fa bene alla salute, vi ricordate? E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Bambolone si dice in italiano. Niente più. È un porridge istantaneo. Porridge. Come le influencer. E c'è una go influenza!